Un saluto da Dottor Palmas, dentista sardo in Moldavia, qua dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica, dove ogni anno risolviamo più di 4.000 pazienti che hanno perduto completamente i denti per parodontite in stadio avanzato, incidenti stradali, chirurgie terziarie, quindi errori di chirurgia eseguita già da altre equipe chirurgiche che magari hanno fallito sotto l'aspetto chirurgico oppure che hanno fallito le equipe protesiche sotto la riabilitazione protesica. Ricordati che puoi interagire con noi cliccando sui link qua sotto a questo video oppure sui numeri che compariranno in sovraimpressione. La rivoluzione robotica è praticamente un nuovo modo di produrre gli oggetti. Davanti a voi vi ho messo un modellino di denti che non sono stati realizzati a mano, ma sono stati interamente prodotti da un robot, da una macchina. Vediamo un pochino quello che sta avvenendo in tanti altri settori. Questa è una bocca naturale e questa è una bocca artificiale, bionica, quella che noi chiamiamo la bocca bionica. L'abbiamo chiamata bionica e ci hanno deriso, ma hanno deriso personalmente tutti i dentisti d'Italia. Perché l'ho chiamata bocca bionica? Per l'inversione della responsabilità. Così il paziente capisce che non ha i denti naturali in bocca e si spaventa. E se si spaventa ne ha cura. Evita di saltare con le gambe bioniche dal terzo piano. Le olia, le pulisce bene e ne ha cura. E capisce che essendo fatta la bocca bionica in maniera completamente diversa da una bocca naturale, che la bocca naturale è un po' come quella dei serpenti, flessibile, elastica. Chi è stata a Torino all'evento la bocca bionica ne abbiamo parlato per due o tre ore, delle differenze della bocca naturale con una bocca artificiale. È sensibile, sente il caldo, il freddo. Queste invece repliche della dentatura sono un po' come le statue di cera. Sono belle, simili all'originale, ma se metti l'accendino si scioglie, non sente il caldo. E quando si rompono queste si rompono perché manca la sensibilità. Quindi è come guidare un'automobile senza il cruscotto. Non sapete quanta benzina è rimasta, non sapete se la freccia l'avete inserita, non sapete a quanti chilometri orari state andando e quanto è alto il rischio di finire senza benzina. Elevato. Quindi ci sono tutta una serie di comportamenti che devono essere messi in atto dal paziente che nascono dalla consapevolezza di cosa ha in bocca. Se noi non comunichiamo con le parole giuste la necessità di fare cose diverse, è alto il rischio di avere problemi e quindi aftercare, assistenza di rotture. L'aftercare inizia con l'istruzione del paziente e quando noi diamo le informazioni corrette di quello che mettiamo in bocca, abbiamo il telefono che squilla meno perché il paziente sta attento, fa i controlli, fa il cambio dell'olio, il cambio delle gomme, fa le verifiche che vanno fatte sui lavori artificiali. Questo è come si vede in 3D, una bocca bionica. Passatemi questo termine, voi dentisti che mi starete guardando su YouTube, ma io non dico ai pazienti che gli sto rimettendo i denti nuovi, perché è pericoloso dire questo. È pericoloso e si sottovaluta invece il coinvolgimento che deve essere fatto del paziente per 20 anni a livello psicologico in quella che è la riabilitazione che ha fatto o che dovrà poi continuare a verificare e mantenere. Noi mettiamo in un ambiente flessibile tutta la parte grigio chiara e una parte acquosa, l'osso, gran parte acqua, è mineralizzato ma flette. Se voi mettete le mani qua sugli angoli della mandibola e schiacciate, si flette quest'osso. Provate a fare questo esperimento. Schiacciate gli angoli della mandibola. Sentirete che i denti flettono, la mascella flette e noi mettiamo un ferro di cavallo bullonato rigido in un ambiente flessibile. Chi vince? Vince l'ambiente flessibile. Quindi è quanto di più lontano esista dalla natura quello che noi facciamo ed è giusto comunicarlo perché poi la bocca non ha i sensori di pressione che ha magari questa mano qua. Questa mano non rompe l'uovo perché ha dei sensori che avvisano che si è arrivato al limite, dopodiché si rompe. Nella bocca questo non c'è. Un dente naturale ha un sistema di ammortizzamento, questa banda rosa qua attorno che dà poi con le fibre nervose il feedback che al cervello guarda che si sta muovendo il dente, invece nell'impianto attorno questo non c'è. È anchilosato, è come un tassello nel muro. Se quello preme 900 N piuttosto che 50 N il cervello non se ne accorge. L'unica parte sensibile che rimane è l'articolazione mandibolare che però ha la sensibilità un po' della pelle del gomito. Ok, non è precisa come la sensibilità della pelle sul labbro. L'articolazione ha un'idea di dove sta la mandibola, di come stai masticando, di più o meno dove sta nello spazio la mandibola. Anche voi quando, se ci fate caso, chiudete gli occhi e avete un'idea di dove stanno le braccia, le gambe, ok pur non guardandole. Perché noi abbiamo un homunculus, si chiama a livello inconscio, che ci dice come stanno messe le nostre parti del corpo a seconda degli stimoli muscolari che arrivano. Poi se dormite, vi svegliate e non avete stimoli muscolari, non sapete se quel braccio è così, così, ve l'hanno tagliato, non lo sapete. Vi dovete iniziare a muovere per avere un'idea nello spazio di come siete messi. Ed è per quello che molti pazienti rompono i denti subito dopo che li mettono. Infatti i problemi sono tutti i primi sei mesi di riassorbimento osseo, rotture, perché il cervello deve iniziare a memorizzare le nuove coordinate con le sole informazioni che gli arrivano dai muscoli e dalle articolazioni. E in mezzo al cibo ci possono essere pietre. Ok, vi sarà capitato di mangiare lenticchie non setacciate o legumi non setacciati, sale grosso. E se quelle pietre finiscono tra le due arcate c'è alta probabilità che superate il limite di flessione dei materiali. Voi direte perché vi sto spaventando, perché vi dico tutte queste cose? Perché se noi capiamo quelli che sono i limiti della ricostruttiva della bocca, che è una bocca bionica, non è naturale, capiamo che per arrivare a una riabilitazione, quindi risolvere i problemi a un paziente per 20 anni o 30 anni, dobbiamo prendere in considerazione i problemi che ci possono essere. Problemi di accettazione dal lato del paziente, problemi dei materiali che ci sono, tutti i materiali hanno problemi, vi parlerò di come si possono limitare i problemi dei materiali e soprattutto poter reintervenire. Quindi se io metto a bilancio già il fatto che ho un qualcosa di imperfetto in bocca, sul quale devo poter intervenire, capiamo perché ho una necessità di iniziare a produrre in maniera differente i denti che noi andiamo a realizzare e soprattutto avvalermi di una serie di caratteristiche di produzione che mi permettono poi di risolvere i problemi in distanza, senza ogni volta dover far venire il paziente qua, oppure senza dover ogni volta riniziare da 0, rinizio da 8, da 9, modifico il progetto e lo riproduco. Quello di cui parliamo oggi è più precisamente di materiali e di come questi vengono prodotti. Questi che vi metto a schermo sono dei denti fatti con la vecchia tecnica analogica, resina unita a delle barre di metallo, la resina cristallizza come le persiane al sole, dopo anni si rompe, cristallizza, si macchia. Questo è zirconio per esempio, c'è chi lo zirconio non sa che invece va rotto prima di metterlo sugli impianti perché è come il vetro e chi invece magari per fare cassa, fai attenzione a alcune cliniche che ci sono all'estero, non in Italia, che fanno i denti tutti in zirconio, che mettono blocchi arcati e ferri di cavallo di vetro montati in un ambiente flessibile. Il segreto per usare lo zirconio, che è un bel materiale, è romperlo prima che si rompe e montarlo poi su delle barre che lo reggono a pezzi già rotto e quindi di unire tra di loro gli impianti e andare a simulare, vedi come la statua di cera, non sono reali questi denti, sono finti, però se tu non glielo spieghi al paziente pensa che ci può fare di tutto con questi denti e va invece verso problemi, magari non li lava, ci fuma, ci fa di tutto con questi denti. Denti in zirconio, gengive col composito, struttura interna, ve l'ho fatta vedere prima, in titanio e poi sistemi di avvitamento, snodi che ci permettono di intervenire in caso di problemi. Se la gomma affora, la tolgo, la cambio, la ribullono. Stessa cosa per i denti, non devono essere incollati, cementati, perché bisogna poter intervenire in caso di necessità. Questi sono alcuni denti, alcune impianti dove si avvitano qua a sinistra i denti e gli altri invece si incollano. Quello che noi facciamo è andare a creare quindi delle simulazioni di denti che sono intelligenti, che possono essere riparati nel tempo. Possiamo simulare i denti con materiali oppure differenti materiali, eliminare i problemi che hanno questi materiali accoppiandoli tra di loro, perché per esempio lo zirconio è bello da vedere, ma è fragile, lo rompo. Lo zirconio è bianco, non è rosa, quindi non posso simulare la gengiva con lo zirconio, mi servirà composito per simulare la gengiva. Questo è il composito e soprattutto devo usare un materiale che se l'osso si modifica un domani posso aggiungere materiale rosa lì. Se l'osso si ritira aggiungo materiale rosa. La resistenza tra un impianto dell'altro gliela do con una barra che è flessibile, però è grigio il metallo, non è bello da vedere, non posso fare i denti di metallo. Posso usare intermezzo di materiali che assorbono gli stress, come questo, il pecton, non sempre si può mettere perché delle volte lo spessore non è sufficiente, il paziente ha perduto poco osso, ma quello che rimane nella bocca è un qualcosa poi di artificiale, l'unica parte sensibile che rimane in questo caso sono questi denti in basso naturali che sono rimasti, quello delle volte aiuta, ma non sempre li possiamo mantenere i denti. Qua già tra dieci anni probabilmente questo paziente dovrà togliere quei denti sotto e aggiungere degli impianti, però finché dura fa verdura, come dicono a Roma. Però il paziente deve essere consapevole che se lui decide di rimantenerli, ok noi preferiamo perché mantiene poi la tattilità della masticazione, quello di cui vi ho parlato prima, però ci sono dei casi in cui per esempio i pazienti zigomatici che l'arcata di sopra è più indietro, dove è meglio togliere quei denti e già mettere degli impianti più indietro che sostengono i denti, dipende da tante cause, il motivo per cui tagliamo delle volte i denti. Devono esserci fori per svitare la gomma e devono essere anche visibili, di modo che l'operatore non va a danneggiare poi tutta la protesi quando la deve smontare. Questi poi li pubblichiamo su internet per attrarre a noi colleghi bravi come noi, noi non siamo i migliori però ce la giochiamo a livello mondiale e facciamo in modo che i migliori ci guardano perché poi lavoriamo con loro con la trasmissione dei dati. Noi tutti questi denti li facciamo partendo da un progetto digitale, progetto digitale che viene realizzato da dei designer. Odonto tecnico digitale specializzato a Londra, in ricostruttiva digitale della donca, a capo del dipartimento di design tecnico digitale. Il mio rappresentante è un supervisor ormai del nostro dipartimento di ricostruttiva che si occupa di seguire tutti quelli che sono i design, i progetti di ricostruttiva quindi 3D digitale. Questo che vedete a bocca, a schermo, è una protesi di 20-30 anni fa fatta a mano, metallo ceramica, col vetro stratificato e cotto in forno, però se si scheggia questo devo ristratificarlo con la polverina di vetro, di ceramica e rimetterla a cuocere a mille gradi. Questo se si rompe, apro di nuovo il file sul computer, lo mando sulla stampante, sul fresatore e riproduce esattamente quel dente. Ma me lo fa identico come era in originale, in partenza. Quindi abbiamo la ripetibilità, lo storage in cloud in memoria di quelle che sono le forme dei denti e abbiamo la possibilità anche di poter inviare dall'altra parte del mondo, con una piattaforma che vi farò vedere, i file dei nostri pazienti. Con qualcuno di voi abbiamo aperto questi giorni sopra il file, il software dove carichiamo le foto e i video. Stamattina l'abbiamo fatto. Io com'è che so tutte queste cose? Perché ho girato il mondo. Sono andato a rompere le scatole a tanti odontotecnici che sono poi le persone che realizzano le protesi. Infatti, se vado indietro, tutto quello che c'è da qua a qua, chi è che l'ha fatto? Il dentista o l'odontotecnico? L'odontotecnico. L'odontotecnico l'ha fatto. Per andare corto, vai da chi già li ha risolti e fatti dire come si risolvono. Io ho girato il mondo con i miei problemi, il sacchetto dei denti rotti. Andavo da loro e loro mi dicevano, devi fare così, ovvio che si rompe. Oppure devi fare cosa? Poi alla fine tutti dicevano sempre le stesse cose. Avevo trovato un protocollo, non scritto e che non viene neanche insegnato. Perché c'è molta pubblicità nel settore medico. Usa questo materiale perché funziona. Aspetta, chiediamolo a chi ne ha fatti già. Vediamo se si rompe o non si rompe, se funziona e con quali altri materiali va usato. Abbiamo iniziato ad andare più in profondità nella digitalizzazione dei pazienti, trasmissione dei dati. Questo per esempio è il fondatore di Exocad che si è occupato di sviluppare il software che si occupa del design dei denti. Abbiamo implementato tutto il dipartimento robot, perché io già sapevo, mi avevano detto che si andava verso la robotica, non a caso. Io ho chiesto, mi hanno detto dove va al mondo. E abbiamo poi implementato da noi la squadra di ragazzi che fossero giovani, smanettoni del computer, ragazzi che sapessero quella che era la tendenza del futuro. iniziassero a maneggiare questi strumenti nuovi, che sono i computer, i robot per la produzione dei denti. In questo video... In questo video... In questo video... Questo è stato il primo trapianto di denti che abbiamo fatto in molte anni. Davia, uno o due anni fa, non ricordo, figlia madre. C'era la madre che aveva perduto tutti i denti e diceva una vita alla figlia c'hai dei denti bellissimi e abbiamo detto porta con te tua figlia. Abbiamo scannerizzato i denti della figlia con quello che avete visto a schermo è uno scanner intraorale e con il robot abbiamo riprodotto i denti della figlia e li abbiamo messi alla madre. Quello che si può fare quindi con la tecnologia di oggi. Un tempo invece in analogico sarebbe stato molto difficile farlo, avresti avuto bisogno di quelli bravi a fare il ritratto, ma non è neanche uguale. Invece con lo scanner noi possiamo scannerizzare esattamente le forme dei denti e quello che si fa oggi è poter accedere a delle librerie di denti reali naturali che sono stati scannerizzati, quindi sono denti reali, quelli memorizzati dopo la scansione e li possiamo andare noi a riprodurre nei pazienti, nelle bocche dei pazienti con i materiali che scegliamo. I denti vengono oggi assemblati a freddo e quindi sono privi di distorsioni, perché sono fatti a freddo, non sono fusi come un tempo, fatti col metallo fuso e con la ceramica fusa, ma sono dei blocchi di materiali che vengono fresati, oppure come le macchine dei metalli qua sopra, che strato dopo strato vengono fuori dei 3D, vengono riprodotti fisicamente da una polvere di titanio o cromo cobalto. E questo è un punto molto importante quando si va poi a riparare i denti, perché se noi dobbiamo rimettere a mille gradi un'arcata scheggiata, quella poi quando raffredda storce, perché il metallo ha un coefficiente di dilatazione termica differente della ceramica, quindi da qualche parte tira, lo rimetti in bocca e balla, non calza, lo devi tagliare a pezzi e cercare di rimettere, è un lavoraccio, uno schifo praticamente. Invece se noi abbiamo i pezzi e li possiamo assemblare tra di loro, per questo vi ho messo il modellino davanti, perché questo modellino ha all'interno tutte quelle caratteristiche di cui vi parlo oggi, il fatto che è un assemblato, viene fatto roboticamente, se lo guardate in controluce ci sono i fori dove vengono avvitati sugli impianti, non devono essere cementati o incollati e poi c'è una scritta qua che non tutti di voi la leggeranno, ma c'è scritto disegnato a New York, stampata in Moldavia. Per dirvi appunto la novità che non necessariamente i designer devono essere qua, cioè chi disegna un'automobile può essere anche a Miami, chi fa il design di un oggetto può essere in Giappone, può essere in Svezia, poi ti manda il file e tu lo vai a produrre dove vuoi o viceversa. Noi possiamo disegnare i denti e li possiamo inviare a Milano e stampare a Milano, fresare a Milano, capite come la rivoluzione che ci sarà? Il fatto che si slega completamente dalla fisicità, dalla produzione in loco degli oggetti, il dentale è un settore dove noi parliamo di produzione di oggetti, sì è un servizio, ma in realtà stiamo producendo oggetti e se gli oggetti che vengono prodotti vengono realizzati con queste nuove tecnologie si apre tutto un ventaglio di possibilità che prima non c'era. Ed è un pochino come la rivoluzione robotica e digitale ha trasformato il mondo dell'editoria, dei libri. Prima si scrivevano a mano, poi c'è stata la stampa, poi c'è stato internet dove ti potevi scaricare dal primo Amazon primordiale i libri digitalizzati. Ora puoi con Word scrivere un libro, mandarlo a tua sorella che sta magari a Torino, lei aggiunge le foto e te lo rimanda via mail in un secondo. Poi a te non piace, quello lo fai corsivo, grassetto, più largo, con un click senza dover riniziare a scriverlo da capo. Quindi abbiamo la possibilità di modificare il progetto rapidamente e adattarlo. E noi siamo nel settore dove ogni paziente è come se dobbiamo riniziare a scrivere un nuovo libro, non è come le automobili che fate di serie che sono una uguale all'altra. Noi tutte le arcate che dobbiamo fare sono tutte una diversa dall'altra e quindi ci serve il designer che si occupa di editare le forme, poi ci serve riproduzione non in serie, ma riproduzione dedicata a quel singolo progetto. Ci serve avere i robot in loco che producono quelle forme di denti che abbiamo disegnato. E prima di produrre, per evitare sciocchezze, stampiamo delle parrucche, facciamo prima una prova per vedere se più o meno ci stiamo avvicinando. Non sempre ci avviciniamo al primo colpo, non sempre ci avviciniamo al secondo colpo. Per questo è il vantaggio della ripetibilità del digitale che ci aiuta poi a avvicinarci molto più velocemente che non con la tecnica analogica. Delle volte si hanno ancora dei problemi dopo sei mesi, un anno, andiamo a fare modifiche, non riniziamo da zero. E se poi dopo dieci anni il paziente vuole cambiare le gomme, apro di nuovo il file e rigenero le gomme da sostituire. Perché sto prendendo in conto che i materiali sono materiali che nel tempo possono usurarsi, possono andare incontro a rotture, materiali che possono cristallizzare. Questa è una discussione che ho aperto già da un paio di anni, non l'ho ancora aperta pubblicamente perché sarà scomoda a molti anni di questa discussione. Per quanti anni è etico andare in giro con le stesse mutande? 20 anni? C'è il rischio che si consumano. E nessuno ne parla di questo. Io sono il primo che ne sta parlando di questo. E la robotica ci aiuterà a rigenerare le mutande. Ok, faccio come Fedro e Soppo, così non scontento nessuno. Parlo di animali, non parlo di denti, parlo di altre cose. Però io ho provato a parlarne. Magari qualche dentista dice, come gli ho dice al paziente che deve ogni 5-10 anni rifare l'arcata? Glielo dici. E gli devi trovare la soluzione economica a livello di produzione industriale per permetterlo questo? Si può fare. Quello che noi abbiamo fatto sotto pandemia è sviluppare tutto il protocollo di riproduzione delle arcate, abbiamo fatto esperimenti, esperimenti in distanza di cui non posso parlare oggi qua, ma abbiamo già iniziato le trasmissioni dati da diversi anni, abbiamo iniziato la riproduzione a distanza, la trasmettere dati da altre parti delle nazioni, con altri team, perché il futuro è inviarsi dati, lavorare col computer e non a mano, istruire il paziente su quello che realmente sta mettendo in bocca e smettere di vendere idiozie come i denti naturali come una volta, ma coinvolgere il paziente in quello che veramente sta mettendo in bocca e andare a cambiare la produzione fisica, quindi passare dal digitale al fisico con delle procedure che permettono di sistematicamente riprodurre esattamente quello che avevamo progettato, senza dover ogni volta riniziare da zero e se io ho alla fine dei dischi che mi costano pochissimo, sui quali posso riprodurre questi materiali, risolvo anche il lato economico e i prezzi in futuro andranno a scendere sempre di più, perché man mano che le stampanti diventano di diffusione planetaria, non avranno più i costi delle stampanti che abbiamo noi qua di 300-200 mila Euro, ma saranno come, anche le prime stampanti costavano poco quelle per stampare i fogli, c'era prima quella a getto di inchiostro, anzi prima c'era quella ad aghi, ora chi è che non c'è una stampante a casa, ce l'hanno tutti, in futuro vi comprerete il set posate da Ikea e ve lo stampate a casa, vi comprate i file e vengono prodotti a casa, si rompe uno specchietto e ve lo stampate di nuovo col file dello specchietto della Honda Civic, ci sarà la stampa degli oggetti, sempre più diffusa e questa è una rivoluzione robotica, non è più la rivoluzione digitale, non è più la rivoluzione di internet, ma siamo nella rivoluzione robotica, che creerà molta disoccupazione, molta disoccupazione perché tutti quei settori del manifatturiero che vengono investiti da qua, se non la intercetti ora questa strada, si è tagliato nel giro di due anni, è quello che cercavo di far capire alcuni odontotecnici, per esempio in Italia, gli dicevo guarda che se non fai la transizione verso la robotica, il digitale, è fine in due anni, non ci sarà più lavoro perché con nuovi progetti, ora se ne sta parlando, io già ne parlo da un paio di anni, che iniziano a esserci a livello europeo, di incentivare la rivoluzione robotica, ok Next Generation EU, tutti questi fondi che arrivano, dove che vanno a finire? Ai privati che si comprano i robot e hanno sgravi fiscali per robotizzare la produzione, ok, io parlo del mio settore, ma pensate anche altri settori dove vengono prodotti gli oggetti, pensate l'editoria, quanto l'editoria digitale ha mandato a terra le catene di librerie, ok, oggi se vuoi un libro te lo scarichi in pdf, in ebook, te lo leggi con il digitale, se vuoi te lo stampi anche, se vuoi scarichi, anzi lo ordini, ti arriva la copia stampata. Un domani noi potremo riparare i denti localmente, sfruttando i robot che ci saranno in tutte le varie città, i denti come i font di Word vengono salvati in memoria nel computer, posso richiamarle le forme e posso andarle a riprodurre poi con il sistema CAD CAM che sicuramente avrete visto in laboratorio, sono dei fresatori 5 assi dove li metti dentro il file e quello riproduce esattamente i file che tu gli hai messo da una cialda di materiale. Il materiale posso cambiarlo, quindi la forma non cambia, se un domani escono fuori nuovi materiali, nuovi inchiostri, nuove carte, posso ristampare il libro come in pergamena di pelle di bue, non importa, l'importante è mantenere però il senso della storia, poi ho lo stampa, caratteri grandi, piccoli, quella è un'altra roba. Perché la bocca bionica? Adesso ci arrivo, prima vi parlo delle caratteristiche del digitale, è possibile inviare al centro assistenza, riparazioni, file da ristampare se qualcosa va male, le stampanti ce li avranno tutti in futuro, costeranno poco. Posso apportare modifiche al progetto con un click, prima ancora di averli creati i denti, ora è solo virtuale, non esistono questi denti, però li posso già modificare, posso ragionare sul libro prima ancora di mandarlo in stampa, posso modificare la storia, posso riprodurlo alla fine con il robot e arrivare alla fisicità quindi dell'oggetto e posso già prima fare analisi in virtuale, prima ancora di produrlo se ci sono problemi, interferenze o grosso modo, non è che ci dà la precisione assoluta, perché sinché non lo metti in bocca al paziente, quello è il vero articolatore che ti dice se una cosa funziona o no. Questo più o meno ti dice, guarda il 90% andrà bene, però poi c'è quel 10% sul cui si sta lavorando e sul cui abbiamo lavorato l'anno scorso e sul quale lavorerò tutto quest'anno, che è non tanto l'analisi dei punti di pressione e di dove toccano i denti, perché se io metto questa cartina tra i denti, lo faccio schiacciare e chiudere la bocca al paziente, mi dice più o meno dove stringe più forte, dove toccano di più i denti, però quando il paziente rompe i denti, li rompe perché in mezzo c'è andato cibo, questa invece è semplicemente una pressione statica, non dinamica e in più irrealistica perché il paziente quando rompe i denti c'è cibo in mezzo, qua non c'è cibo in mezzo, c'è solo la carta carbone elettronica, non è la realtà quello che succede nella bocca del paziente in funzione. Quello che vi faccio vedere ora, passiamo su questa pagina, questo è un articolatore robotico che tra l'altro è sviluppato in Italia, in Lombardia, in Lombardia noi siamo pionieri in Italia per la robotica a livello odontogliatrico e io sarò spesso in Italia quest'anno. Queste sono delle macchine che riproducono quelli che sono i movimenti della bocca del paziente. Il paziente si registra nei movimenti e questi movimenti con dei sensori chiaramente vanno in memoria sul software e vengono riprodotti da un robot, quindi non dico le cazzate quando vi parlo di robotica e di bocca bionica che deve essere testata roboticamente. Qual è il vantaggio di questo? Che questi macchinari qua mi fanno vedere esattamente in dinamica come si comporteranno i denti. I dati come li rilevo? Questi dati vengono rilevati con degli apparecchiature, in questo sono pionieri invece i francesi, nord della Francia, vedrete poi dei live che vi farò dalla Francia dove si registrano quelli che sono i movimenti della bocca. Quindi ho una registrazione, quelle che un tempo si chiamavano le condilografie fatte con degli apparecchioni incredibili per cercare a livello gnatologico di andare a funzionalizzare un paziente e vedi gli mette una pallina gommosa in bocca perché quella è la realtà. Noi mastichiamo il cibo, quindi ci interessa vedere esattamente come si comporta l'articolazione ai muscoli con qualcosa che interferisce nella masticazione. Dopodiché questo video è come un video registrato, lo vado a portare su Exocad, vi ho fatto vedere prima l'inventore di Exocad, quella foto che vi ho passato prima. Exocad va a replicare questo software i movimenti che noi abbiamo registrato, si caricano i file di movimento e a un certo punto si va a simulare col design che il designer ha messo, quelli che sono i movimenti della mandibola che fa. L'intelligenza artificiale di questo software va a calcolare quelli che sono i punti di pressione in dinamica, con un click, proprio in una frazione di secondo, riarticola completamente le forme dei denti. Intelligenza artificiale, ok, rilevata col digitale una serie di informazioni, vengono da un algoritmo poi riprodotte virtualmente di modo da andare a modificare i design creati da chi ha immesso dentro le forme dei denti. Vengono testate poi roboticamente, prima di andarle a fare in fisico nella bocca del paziente e qui abbiamo lavorato su quel 10% di cui vi ho parlato, ovvero noi dobbiamo andare a realizzare qualcosa che si avvicina molto a quella che è la realtà del movimento dei pazienti, della bocca dei denti dei pazienti. Dopodiché andare a riprodurre i movimenti all'interno della bocca del paziente passando con degli articolatori individuali robotici. Oggi invece vengono usate ancora delle forchette che simulano i movimenti di massima apertura, massima chiusura, è come una porta, ti dico al massimo quanti gradi apre e in che direzione, però sto dimenticando che quando quella si rompe, si romperà non perché sta in massima apertura, ma perché magari ci va qualcosa in mezzo quando la chiudi e allora c'hai magari degli scivoli tra un dente e l'altro che non sono della giusta inclinazione per cui va in interferenza, l'aereo sbatte nella montagna, invece che avere la strada libera davanti, decollare senza impatto. E se questo lo fai a mano, sei sempre nell'analogico, ma se tu questo lo calcoli con un algoritmo digitale, sei allora nel digitale e hai tutti quei vantaggi della ripetibilità, poter modificare il progetto se ci sono problemi e conservarlo per anni senza dover iniziare, perché ce l'hai salvato lì. Questa è la grande rivoluzione che gli anni prossimi andrà a spazzare gran parte della produzione attuale analogica nel dentale. Questa non è la norma oggi, oggi i denti non vengono fatti così. Stanno iniziando a applicare questi protocolli, siamo 4 sfigati in tutta Europa. Perché? Perché parliamo di cose pionieristiche, dove le tecnologie costano molto, questi cicli di produzione sono dei cicli dove i protocolli ancora non esistono, ma stanno venendo creati, perché lì salta fuori una macchina, là ne salta fuori un altro pezzo del puzzle, qua un altro pezzo del puzzle e ci sono dei centri di ricerca dove si usano tutti questi pezzi, metterli insieme e creare poi il protocollo che viene utilizzato di routine in futuro. Noi lavoriamo, facciamo qua sviluppo e ricerca. Mi vedete poco per questo, perché mi occupo poi di prendere la direzione, far prendere la direzione giusta che deve intercettare quello che è il futuro. Il futuro non è l'analogico, facciamo già cose che sono state decise 5 anni fa, perché già 5 anni fa avevamo capito l'importanza di lavorare in digitale, avevamo capito l'importanza di avere un laboratorio in sede, di avere ragazzi smanettoni del computer e sappiamo già quali sono i limiti che devono essere sbloccati per i prossimi anni, che sono appunto la individualizzazione dei movimenti per le singole bocche e le singole arcate. Quello che rimarrà poi come tassello finale, ma che penso che ci vorrà ancora diverso tempo, è risolvere questo problema, la sensibilità. Perché una bocca perfetta, poi vi ho detto prima l'esempio dell'automobile, è una bocca che ha le spie, i sensori. Se noi ci mancano i sensori, avremo dei denti che non impattano, dei denti che sono là dove dovrebbero essere, però se noi non abbiamo i sensori feedback, avremo sempre un'alta probabilità di finire senza benzina o di fondere il motore, perché non c'è la spia di temperatura della testata, dell'olio, si fonde la testata. Se non vai a cambiare l'olio, oppure se hai magari qualche cosa che ci va tra i denti. Gran parte delle rotture che noi abbiamo, sono rotture dovute a roba che è andata tra i denti. Oppure paziente che ha strappato e ha superato il limite di flessione. Non è colpa sua, è perché non ha i sensori. Se io strappo, mi appendo al soffitto con i denti, sento tirare, mollo prima. Con i denti artificiali, resti attaccato se c'è abbastanza forza, non ti fanno male. L'ho un po' ingigantita, però per dirvi che se vi date una martellata sui denti artificiali non sentite dolore. Se vi va qualcosa tra i denti, sentite crack e poi vi trovate qualcosa in bocca. Invece quei denti naturali, prima di fare crack, dici aia e apri subito la bocca. Hai un sensore che ti avvisa, guarda che la pressione sta aumentando troppo. Questo è quello su cui bisogna lavorare, sulla miniaturizzazione di questi sistemi e andarli a integrare poi all'interno delle arcate e dare poi la trasmissione dei segnali per l'unica parte che rimane di sensibilità residua in un paziente che ha perduto tutti i denti, che è il periostio, l'unica parte innervata che rimane nell'osso, ovvero quella pellicina che rimane sulle costolette dell'agnello. Avete mai mangiato l'agnello? C'è la pellicina sulla costoletta, no? Quello è il periostio, è l'unica parte innervata che rimane. Perché se le radici vanno via, che le abbiamo tolte per piorrea, parodontite, abbiamo tolto via anche i nervi che davano sensibilità. Quindi questi stimoli sensoriali dovranno in qualche modo raggiungere il cervello, come nel braccio bionico. Ci si attacca alle rimanenze residue di questo sistema nervoso periferico, che in questo caso nelle mascelle è il periostio. Se non si abbraccia ora la robotica, comunque questa entrerà di prepotenza nel nostro settore. Che lo vogliamo, non lo vogliamo. Però se noi vogliamo essere nel futuro, il futuro è, come dicevo, un formatore italiano, quel posto dove pianifichi di andare a vivere. Quindi se tu lo pianifichi, ci vai in quel posto. Se no l'alternativa è in maniera cieca pensare, no ma continueremo a fare i denti come si è fatto per 40 anni. No, perché continui a fare i denti molto costosi. Invece i denti dobbiamo abbattere i costi di rifacimento, riproduzione dei denti. Io sono dottor Palmas e qua dalla Moldavia vi faccio un saluto. Se avete necessità di informazioni, vi ripeto, cliccate sul link qua sotto.